Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Annuncio di Disney Italia. Nel nuovo film animato della Pixar Elemental c'è un cameo di doppiaggio di Pecco Bagnaia, campione del mondo di motociclismo. La nuvola rossa della MotoGP dà la voce a uno degli abitanti di Element City che nella versione italiana del film in uscita al cinema il 21 giugno prende appunto il nome di Pecco. News dal mondo della voce. Radio doppiaggio. Voci.fm, il magazine.